Canale YouTube di Luigi Gaglio Nome della Rosa di Umberto Eco Ecco, qui vedete per esempio un fotogramma tratto dal film che è stato realizzato, insomma, ispirato a questo romanzo di Umberto Eco Ecco, abbiamo anche utilizzato alcune slide realizzate da questa professoressa Cecilia Chiumenti per una università della terza età di introduzione a questo romanzo Iniziamo, per esempio, adesso un lavoro sui romanzi, sulle varie tipologie di romanzi Incominciamo col romanzo storico, il nome della Rosa è un romanzo storico Intendiamo pertanto per romanzo storico un romanzo che è stato scritto da un autore Facendo affidamento sulla conoscenza storica di un certo periodo Ecco, per esempio, Umberto Eco aveva studiato in particolar modo in Medioevo Aveva fatto una tesi di laurea su Sant'Omaso E quindi sicuramente i suoi studi, diciamo, sono stati riversati anche in questo lavoro Chi è Umberto Eco? Critico, saggista, scrittore, semiologo di fama internazionale Umberto Eco nasce ad Alessandria il 5 gennaio del 32 Si laurea nel 54 all'età di 22 anni presso un'università di Torino Con una tesi, dicevamo appunto, sul pensiero estetico di Tommaso D'Aquino Poi pubblicata come volume autonomo La carriera di Umberto Eco si avvia verso servizi culturali della RAE Ma non solo Insegna, parassolo, facoltà di lettere e filosofie Università di Milano, architettura dell'Università di Firenze Architettura del Politecnico di Milano Ecco, gli anni 60 abbiamo detto che si è laureato nel 54 Nel 60 ha aderito al gruppo 63 Una corrente che ha innovato profondamente la cultura e la letteratura Era una sorta di nuova avanguardia Ecco, che è sorta in quegli anni 60 E di questa avanguardia facevano parte importanti altri intellettuali Come Edoardo Sanguinetti Ricordiamo almeno Edoardo Sanguinetti Dopodiché ha cominciato a scrivere tantissimi testi Nel campo della semiologia Soprattutto Poi, non solo Sulla storia dell'estetica Sulle poetiche d'avanguardia Sulle comunicazioni di massa Sulla cultura di consumo Poi ha scritto questo romanzo di cui parleremo oggi C'è appunto Il nome della Rosa Che è stato il suo capolavoro Seguito poi dal pendolo di Foucault Che lui amava molto Ma non ha avuto lo stesso successo Del nome della Rosa Così come anche gli altri romanzi che ha scritto L'isola del giorno prima e Baudolino Nel 2012 esce il suo sesto romanzo Il cimitero di Praga Seguito dal numero zero nel 2015 Nel 2012 è stata pubblicata una versione riveduta e corretta Del suo primo romanzo Il nome della Rosa E' morto All'età di 84 anni Nella sua casa di Milano La sera del 19 febbraio del 2016 Allora, perché si chiama Il nome della Rosa questo romanzo? Allora, anzitutto Lui aveva pensato di Intitolarlo in un altro modo Cioè l'abbazia del delitto Poi ha scelto questo nome Per una citazione Leggiamo questa citazione in latino Stat rosa pristina nomine Nomina nuda tenemus Ovvero la rosa primigenia La prima rosa pristina rosa Stat esiste solo come nome In quanto nome Noi abbiamo solo nudi nomi Con questa frase si intende che l'unica cosa Che si può ottenere dal mondo sono nomi Mentre cogliere l'essenza delle cose E' impossibile Delle cose stesse d'altronde Restano nella memoria Solo meri nomi Infatti dobbiamo dire anche questo Che l'inizio del 300 E' una fase fondamentale Della storia della cultura Perché? E' una fase in cui viene messo in crisi Per la prima volta Ad esempio l'aristotelismo Di San Tommaso E prende piede il nominalismo Ecco, abbiamo già detto Che lui infatti ha fatto una tesi di filosofia E questi aspetti Anche emergono In maniera indiretta Dicevamo Da questo nome Il nome della rosa Il romanzo è ambientato nel 1327 In un monastero benedettino Dell'Italia settentrionale Ed è narrato in prima persona Dal protagonista Ad Sodamelk Che ormai anziano Racconta le vicende accadute nel monastero Quando lui era giovanissimo Era un novizio Appunto Dicevamo Cioè quindi Era uno che ancora Non aveva fatto Le sue professioni di Monaco Le indagini condotte Dal suo maestro Guglielmo da Baskerville Quindi Questo frate Ha un nome molto particolare Perché Baskerville Ci fa venire in mente Il mastino Di Baskerville Che è uno dei capolavori Di Arthur Conan Doyle Quello scrittore Che ha scritto Tanti romanzi Tra cui questo Che hanno come protagonista Sherlock Holmes È chiaro È evidente quindi Che Il modello Diciamo Che viene presentato In questo romanzo È il modello Di chi Utilizza la ragione Per Per esempio Individuare L'autore di un delitto No? Con i mezzi Gli strumenti Ad esempio Di indagine Punto razionale Esattamente come Faceva Sherlock Holmes Nelle sue indagini La vicenda si sviluppa In sette giorni Che Hudson Nelle sue memorie Suddivide Secondo la scansione Del giorno Della regola benedettina Mattutino E lodi Ora terza Ora sesta Ora nona Vespri Compieta Ora terza Più o meno Corrisponde Alle nove del mattino Ora sesta Più o meno Corrisponde A mezzogiorno Ora nona Più o meno Corrisponde Alle tre del pomeriggio Guglielmo da Baskerville Il monaco inglese ed ex inquisitore Seguaccia del filosofo Ruggero Bacone All'incarico di mediare Un incontro Tra francescani Protetti dall'imperatore Ludovico il Bavaro E gli emissari Del papa di Avignone Giovanni XXII Ecco praticamente Questo frate È di passaggio Cioè Si trova A passare Da questa abbazia Perché lui in realtà Sta andando Per cercare Di trovare Una mediazione Perché quelli erano anni Abbastanza convulsi In cui il papa Si trovava ad Avignone Addirittura Si trovava in Francia Non era a Roma E c'erano gravi contrasti Ecco quindi che Lui cercò di mediare Era seguace Del filosofo Ruggero Bacone Quindi come stavamo dicendo Guglielmo da Baskerville Rappresenta proprio Uno spirito Un intellettuale Diciamo Vivace Aperto A nuove frontiere Della filosofia Il monaco inglese E il suo allievo Giungono all'abbazia Dove durante la loro Permanenza Di una settimana Verranno uccisi Sette monaci Tutti i delitti Sembrano ruotare Attorno alla biblioteca Del monastero Che nasconderebbe Un misterioso segreto Guglielmo da Baskerville Con l'aiuto del suo allievo Scoprirà il vero responsabile E il movente Ecco Ai miei ragazzi Oggi Vi invito Senz'altro Alla lettura Del nome della rosa Di Umberto Eco Ma io E anche il vostro libro Alla pagina 331 Come dire Vi svelo Vi svelerò Qual è insomma Il L'assassino Insomma Cioè il responsabile Di queste morti È un ex bibliotecario Che era molto preoccupato Del fatto che In quella biblioteca Ci fosse il manoscritto Della poetica Di Aristotele Riteneva Questo ex bibliotecario Che la conoscenza Di questo manoscritto Avrebbe Nuociuto Alla sua fede E quindi Spinto Da questo Desiderio Molto rigido Insomma Di portare avanti Queste Queste idee Aveva Praticamente Intinto Questo Manoscritto Di una sostanza Venenosa Per cui Tutti quelli Che Sfogliavano Le pagine Di questo manoscritto Poi Morivano Avvelenati Un terribile Incendio Che distrugge L'abbazia Il manoscritto Conclude il romanzo E le indagini Di Guglielmo Anche questo incendio È significativo È una fase Dice Umberto Eco Ci fa capire Attraverso questo romanzo In cui il mondo Sta cambiando E anche questo incendio È la dimostrazione Di come il mondo Sta cambiando Nel senso che In un certo senso Il Trecento Rappresenta una fase Di crisi Del Medioevo Crisi di quelli Che erano stati I fondamenti Possiamo dire Della cultura E della civiltà Precedente Pensate ad esempio Al Papato E all'Impero Che furono in crisi Appunto In quel periodo Del Trecento E questo Viene simboleggiato Anche Appunto Dalla Dall'incendio Finale Ecco Umberto Eco Ritornando indietro Alla sua biografia È stato Sempre un protagonista Della scena Culturale Italiana Anche quando In uno degli ultimi Anni di vita Quando è andato A ritirare un premio Ha dato un giudizio Molto negativo Sui tutologi Cioè Su quelli che Nel web Si improvvisano E da un giorno All'altro Si presentano Come maestri Sapienti O intellettuali E quindi Ha Sicuramente Invitato tutti A utilizzare Ad esempio Internet In un modo Molto più critico Ma ritorniamo Alla vicenda Del nostro monastero Come vedete Il libro È corredato Di una piantina Del monastero Nella piantina Dell'abbazia Si evidenzia Subito Si distingue Subito Questa Costruzione Diciamo Ottagonale Chiamiamola così O meglio È una costruzione Quadrata Con delle torri Ottagonali Che è quella Appunto Della biblioteca La biblioteca È un posto centrale All'interno Di questo romanzo Qui potete vedere Comunque Com'era Diciamo Vasta Una abbazia Medievale Che comprendeva Un ospedale Appunto La chiesa Il chiostro I dormitori La sala capitolare Stabbi Stelle E fucine Perché L'abbazia Doveva essere Tra virgolette Autonoma E quindi Doveva Fornire Da vivere Insomma A questi monaci E spesso Questi monaci Come si vede Anche nel romanzo Sono aiutati Coadiuvati Insomma Da una serie Di operai Lavoranti Che giungono Nell'abbazia Per Per aiutare I monaci Nel lavoro Ora et labora Prima abbiamo visto Come i monaci Scandivano Ad esempio La giornata In Tempi di preghiera Ma l'altro Aspetto fondamentale Della vita dei monaci Era quello Del lavorare E quello Dell'operare Non tutti Però facevano Lavori materiali Alcuni Erano proprio Dediti A lavori Tipo Ad esempio Copiare I manoscritti Ecco Perché La biblioteca Era Il centro Del monastero Perché quel monastero Lì Era importante Anche perché Conservava Manoscritti Importantissimi Tra cui dicevamo Questo Della poetica Di Aristotele Siccome Aristotele Era punto di riferimento Per la filosofia Anche e soprattutto Direi per la filosofia Cristiana Del Medioevo Questo Questo monaco Jorge Era preoccupato Che Si venissero a scoprire Si venissero a scoprire Determinate Cose Che a suo parere Avrebbero minato La filosofia Appunto Ad esempio La filosofia Tomista Diciamo così Perché avrebbero messo In discussione Certi fondamenti Della filosofia Che Che invece Secondo lui Non andavano messi In discussione Pertanto Diciamo che Questi due Personaggi Cioè Guglielmo da Baskerville E questo tale Padre Jorge Sono simbolo L'uno Guglielmo da Baskerville Della ragione Della tolleranza Del progresso Mentre Jorge Che è simbolo Dell'irrazionale Dell'intolleranza Dell'integralismo E della reazione E questo è Un evidente Messaggio Che vuole lanciare Umberto Eco Vuole farci capire La sua Weltanschauung Cioè La sua visione Del mondo Ecco Il genere Di questo romanzo Vediamo se Le slide Ci aiutano Ecco Qui scusate Abbiamo I personaggi Principali I personaggi Principali Del nome Della Rosa Esatto Il protagonista Questo frate Indagatore Guglielmo da Baskerville Il narratore Ad Sodamelk Che è seguace Di Guglielmo Giovane Giovanissimo E che poi Decenni e decenni Dopo Avrebbe raccontato Questa storia Infatti Dobbiamo dire Che oltre la storia In sé C'è anche una storia Del manoscritto Di Ad Sodamelk Nel senso Che All'inizio Umberto Eco Ci spiega Che questo manoscritto È giunto Sino a noi Attraverso Tutta una serie Di passaggi È chiaro Che Questo Ad Sodamelk Che scrive La storia Ci fa venire in mente Sicuramente I Promessi Sposi L'anno prossimo Infatti studieremo Che anche Alessandro Manzoni Ha inventato Una storia Del manoscritto Dei Promessi Sposi Che sarebbe stato scritto Da un anonimo Seicentesco E così Tantissimi altri testi Ad esempio Di Jorge Luis Borges Riprendono Proprio tutta Questa Questo tipo Di narrazione Un po' Indiretto Poi Dicevamo Altri Personaggi Ma noi abbiamo Appuntato La nostra attenzione Soprattutto su Corge da Burgos Che è Custode Della biblioteca Ex bibliotecana E poi invece Ci sono I monaci uccisi Il genere letterario Di questo romanzo È molto Ecco Eccolo qui Vedete La slide Che c'è Sui generi letterari Del romanzo È molto difficile Stabilire qual è Il genere letterario Di questo romanzo Nel senso che In un certo senso È un romanzo Giallo Perché Appunto Abbiamo detto Che c'è Un'indagine Sulle morti Che si succedono Di quel bavaro Di quel bavaro Piuttosto che Al papa Che era allora Ad Avignone In questo modo Quindi Ecco ricostruisce L'Italia medievale Delle controversie Religiose Degli scontri Tra papato Il suo impero Affronta in questo romanzo A casa A questo punto Di questo brano Della biblioteca Il monastero Infatti Come abbiamo visto Nella cartina È dominato Da una possente Costruzione A pianta quadrata Con quattro torrioni Ottagonali L'edificio Lo chiamano così L'edificio Per antonomasia È quello Della biblioteca Al piano inferiore Ci sono la cucina E il refettorio Sopra Lo scriptorium Dove si scrive Dove si copiano I testi Una grande sala Illuminata dalla luce Diversamente Dallo scriptorium La biblioteca È un labirinto Costruito Su un progetto segreto La sua pianta È analoga All'antico È scomparso Il labirinto Sul pavimento Della cattedrale Di Reims In Francia Mentre la disposizione Incastro Delle stanze In cui sono costruiti I libri Richiama quella Degli interni Di Castel del Monte In Puglia Mentre l'abbazia Benedettina Rimanda All'ordine di Dio E dell'universo La struttura Labirintica Della biblioteca Simboleggia Il labirinto Del mondo Cioè la minaccia All'ordine divino Ecco Corge Dicevamo Sente La cultura Cioè i libri La cultura Come una minaccia All'ordine divino Infatti il problema è questo Che i monaci In generale La cultura cristiana Avevano custodito La cultura classica Negli archivi Di queste loro biblioteche Ma Per interpretarlo Filtrarlo E selezionarlo Ecco il problema Di Di questo padre Corge Cioè Che non Arrivassero Alle menti Un pochettino A sua parere Deboli Determinati Costrutti Filosofici Che avrebbero potuto Minare Dicevamo Le fondamenta Il sistema Il sistema Ad esempio Filosofico Tomistico Cioè L'interpretazione cristiana Insomma Scolastica Proprio della filosofia Scolastica Della filosofia Aristotelica Per questo motivo È proibito Entrarvi Perché la biblioteca Specchio del mondo Conserva non solo Libri cristiani Ma anche quelli pagani Che il bibliotecario Tiene gelosamente Nascosti In principio L'alverbo Dice il Vangelo di San Giovanni La parola di Dio Ha dato origine al mondo Ma la parola Può anche distruggere E quindi colto Da questo Questa tensione Da questa Ansia Dicevamo Di intolleranza Corge Vuole impedire Che si legga Questo manoscritto Della poetica Di Aristotele Ecco È evidente qua Che il riferimento È invece A quanto ferve Nella cultura Del Trecento Una sorta di Preumanesimo Che prelude A quanto avverrà Nel Quattrocento Cioè Finalmente L'apertura Alla cultura classica Senza più Nessuna Nessun filtro Nessuna selezione Nessuna interpretazione Che i classici Siano conosciuti E siano letti Per quello che Veramente Volevano Scrivere E volevano Trasmetterci Altri video didattici Su A tuttascuola A tuttascuola A tuttascuola A tuttascuola A tuttascuola